Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco, o benvenuti in questo caso. Oggi ci troviamo su Honkai Star Rail, nuovo gioco che è uscito da appena un paio di giorni, che ho avuto modo di provare, ho avuto modo comunque anche di analizzare sotto alcuni aspetti, soprattutto di gameplay, dato che era la cosa che mi interessava di più, e partendo sfiduciato, dato che la mia esperienza con Genshin non è stata felicissima, dato che alla fine ho abbandonato Genshin totalmente, Honkai, a differenza di Genshin, mi sta sorprendendo in positivo. E dato che mi sta sorprendendo in positivo e il gioco, essendo uscito da poco, ha comunque la possibilità di avere già un bel pacchetto di personaggi iniziali su cui poter discutere, oggi vi voglio dare la mia opinione su questa tipologia di gioco e sul perché sto notando che su internet si sta parlando di tier list, dove secondo me le tier list in questo caso non servono a nulla. Perché non servono a nulla? Perché più che fare delle tier list, secondo me, bisognerebbe guardare non il personaggio singolarmente, che secondo me può essere visualizzato singolarmente solo in casi speciali, come vedremo ovviamente all'interno di questo video, ma bisognerebbe secondo me analizzare il personaggio all'interno di una team composition. Perché a differenza di Genshin, in questo gioco tutti i personaggi saranno ovviamente sul terreno di battaglia. Avremo un team formato da quattro personaggi e questi quattro personaggi saranno sempre a nostra disposizione. E non come Genshin, che pur avendo quattro personaggi si possono roteare tra di loro per proteggerli, tra virgolette. Qui questa cosa non funziona al 100%, perché ovviamente i nostri avversari possono effettuare degli attacchi AOE e quindi colpire tutti e di conseguenza bisogna avere un team che, in base alla sua composizione, possa effettivamente dimostrarsi più o meno forte. Per quanto riguarda le tier list, o comunque la valutazione del personaggio singolo, secondo me si può, come detto prima, fare in pochissimi casi. Ad esempio con i DPS. Per quanto riguarda i DPS, secondo me si potrebbe effettivamente fare una tier list in modo tale da valutare quale DPS possa essere più utile di altro. Perché non si parla neanche di forza. La forza, in questo caso, è data, come ho detto prima, dal team. Mentre invece ci sono alcuni DPS che hanno comunque meccaniche o presentano in generale delle costruzioni che sono più utili rispetto agli altri. Uno di questi esempi può essere tranquillamente Sila. Sila è praticamente quel personaggio che, essendo DPS ed essendo anche comunque di elemento quantum, quindi abbastanza raro per il momento all'interno del gioco, dato che ci sono soltanto due personaggi in questo caso che appunto effettuano danni di tipo quantum, può veramente fare un po' di differenza. Anche perché la meccanica di Sila, in questo caso, che la rende effettivamente un ottimo personaggio, è che ogni qualvolta riesca ad eliminare un avversario, prende automaticamente un turno extra. E quindi ci consente comunque di giocare quasi da sola. Da Sila. No, vabbè, questa faceva schifo. Ed è questo che ovviamente rende questo tipo di personaggio molto valido. Ed è anche un personaggio valido, perché può effettivamente lavorare in diverse team composition. E' anche vero che essendo all'inizio del gioco purtroppo ne abbiamo poche. Ce ne sono veramente poche che possono funzionare bene insieme. Secondo me una di quelle migliori che si possono fare in questo momento è concatenare il potere di Clara con quello di 7 Marzo e con quello di Ting Yun, ad esempio. Questi tre personaggi insieme lavorano da Dio. Perché ovviamente Clara è, secondo me, un personaggio che è uno probabilmente dei migliori che abbiamo a disposizione all'interno del gioco come 5 Stelle, dato che può effettivamente ridurre i danni subiti, può, tra virgolette, attirare non al 100% i danni su di sé, ma grazie a 7 Marzo che dà lo scudo a Clara si potrebbe fare una bella combo. Senza considerare il fatto che Ting Yun, essendo comunque un personaggio che aumenta la special dei nostri PG, può ricaricare praticamente Clara e le permette comunque di spammare la sua ulti e quindi avere praticamente il counter attivo sempre. E invece 7 Marzo, che indirizza gli attacchi verso Clara tramite lo scudo, ci consente di avere una team composition molto 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 valida. E a questi tre, ovviamente, questi tre personaggi, si può aggiungere, dipende le circostanze, o un DPS, come Sila, se si vuole rendere il team un po' più offensivo, oppure una curatrice. E' anche vero che in questo caso le curatrici, purtroppo, all'interno del gioco sono soltanto due. Infatti abbiamo soltanto Bailu, oppure Natasha. Natasha, tra l'altro, è un 4 stelle che viene anche regalato all'interno del gioco. E' anche facile da trovare nel banner di Sila, perché è in rate up nel banner di Sila. Però la possibilità comunque di avere una curatrice free to play è comunque tanta roba. Certo, io ho startato l'account con Bailu, perché ho rerollato, ho cercato praticamente quasi tutti i personaggi per provarli in diverse situazioni, però, secondo me, partire con una curatrice come Bailu è un grande boost per l'account. E' veramente un grande boost perché le sue cure sono estremamente forti. Sia la skill che l'ultimate sono tanta roba, secondo me, superiori ovviamente a quelli di Natasha, ma su questo penso che non ci sia uno dubbio. Anche se Natasha effettivamente ha una skill che non è male, e probabilmente la skill di Natasha, secondo me, in alcune situazioni, è anche meglio della skill di Bailu. Quindi diciamo che Bailu ovviamente ha un ultimate che è estremamente forte, perché è estremamente forte, però secondo me la skill probabilmente di cura di Natasha, dipende dalla situazione, si rivela essere più utile, perché non solo cura, ma dona anche un HP regen, quindi abbiamo la possibilità di recuperare HP praticamente a prescindere dal fatto di essere curati direttamente o meno. Bailu può incrementare le cure che effettua con le sue passive e con tutto quello che riusciamo a sbloccare del personaggio, però effettivamente, secondo me, come skill, quella di Natasha al momento mi sembra essere leggermente superiore. E quindi avere una team composition già composta con questi tre personaggi, più ovviamente un DPS o una cura, in base ovviamente a come volete giocare, secondo me rendono i personaggi decisamente migliori. Anche perché io ho notato che molti hanno classificato per esempio 7 Marzo su delle tier list con votazioni, non dico pessime, ma quasi, piazzandola praticamente nella tier B o comunque piazzandola in tier basse. Mentre invece, secondo me, 7 Marzo, soprattutto all'inizio del gioco, è un ottimo personaggio, è veramente ottimo. La capacità di poter dare degli scudi e di poter counterare una volta colpito lo scudo è tanta roba, senza considerare il fatto che la sua ulti ha la possibilità anche di frizzare i nostri avversari, quindi direi che comunque a base di utility è veramente veramente buona. Certo, a questo team sicuramente potrebbe aggiungersi anche una Bronia, che secondo me Bronia rappresenta il top del top, come insieme a Bailu probabilmente Bronia rappresenta il top del top per cominciare il gioco, perché comunque Bailu vi dà le cure, Bronia invece comunque buffa il team, debuffa gli avversari ed è di elemento vento. Elemento vento che troverete spesso e volentieri all'inizio del gioco, che non avendo Bronia sarete costretti ad utilizzare Dunhang, perché purtroppo lui, cioè nel senso purtroppo, lui vi viene comunque regalato all'inizio del gioco e Sampo è assolutamente da cestinare. Non mi piace completamente il personaggio di Sampo, non mi piace né nella sua composizione di kit, né come funziona all'interno dei party, quindi se proprio bisogna utilizzare un personaggio di tipo vento, utilizzate Dunhang, che non lo reputo eccezionale, ha una buona skill in realtà, anche l'ultimate non è malvagia, però ovviamente rispetto a una Bronia è totalmente fuori contesto. Bronia come personaggio vento, perché ragazzi bisogna comunque considerare anche il fatto di avere elementi diversi all'interno del party. Sono sicuro che usciranno poi contenuti anche mono elementali, perché in un gioco del genere ci sta avere il contenuto mono elementale, ma per il momento che siamo comunque all'interno dell'esplorazione della storia e all'interno comunque di un gameplay vario, perché comunque si ha un gameplay molto vario, soprattutto nel primo mondo ci sono tantissimi nemici con diversi elementi che ovviamente possono mettervi in crisi. E secondo me ovviamente Bronia come vento, a parte come personaggio che come kit è eccezionale, ma come elemento vento è davvero tanta roba, tantissima roba, quindi bisogna comunque considerare in generale proprio la team composition. Voglio spendere anche due parole su Hertha, che ho notato molti hanno disprezzato, ponendola nelle tier list praticamente anche nella categoria più bassa, quando in realtà secondo me Hertha, soprattutto nel mondo illusorio, ovvero quello che appunto ci crea lei per studiare il nostro protagonista, è molto buona. È molto buona. Il suo follow up consente non solo di fare tanti danni, ma anche di breccare nemici in sequenza, e quindi generare una sorta di combo perpetua. Quindi non so effettivamente perché Hertha sia stata votata così male in giro per il web, probabilmente durante la fase iniziale del gioco può essere buona, ma andando avanti potrebbe effettivamente perdere un pochettino del suo smalto, anche perché magari si aggiungeranno in futuro personaggi più forti, ma secondo me nella fase iniziale del gioco Hertha è comunque un personaggio da non sottovalutare. È molto molto buona, tra l'altro è anche molto viabile, perché è possibile da inserire in diversi team. L'unico difetto che le attribuisco, secondo me, è di essere elemento ghiaccio. Purtroppo ci sono tanti personaggi di elemento ghiaccio che cozzano tra di loro, dipende dove si mettono nel team. Ad esempio Jepard potrebbe cozzare con un 7 marzo, se ovviamente si vogliono utilizzare insieme, perché ovviamente non dico fanno la stessa cosa, ma sono molto simili come gameplay, sono molto difensivi entrambi. L'unico che si salva è Yang King, che giustamente essendo comunque un personaggio offensivo è comunque ghiaccio, ma non si può paragonare agli altri. Mentre invece un altro personaggio ghiaccio che ho trovato carruccio da utilizzare è Pela. Pela, col fatto che comunque può dispellare i buff degli avversari e indebolirli con la sua ulti, potrebbe essere un buon elemento di disturbo all'interno del party. Quindi potrebbe sostituire magari altri personaggi in team composition, in questo caso, ma anche utilizzata singolarmente, senza necessariamente averla collegata in un team composition. Anche se in realtà Pela, secondo me, è giocata insieme a Brogna, potrebbero veramente dare tante soddisfazioni, perché appunto potrebbero dare tante soddisfazioni. Unite, ovviamente una Ting Yun, che è praticamente un perno centrale su tutti i team che vogliono utilizzare le ulti, dato che lei appunto ha la possibilità di incrementare l'energia dei nostri personaggi, possono rendere questi team molto interessanti. Quindi debuffare in maniera pesante i nostri avversari per poi attaccare ovviamente con danni AoE. Danni AoE che purtroppo, mi duole dirlo, Hook, essendo comunque la variante di Klee, di Genshin Impact, e io odio praticamente il personaggio di Klee in tutto e per tutto, devo ammettere che invece Hook, a differenza di quello che si possa pensare, come danni AoE è molto valida. È vero che lei danni AoE li può fare solo dopo aver utilizzato la sua ulti, però, sempre ritorniamo al discorso di prima, avere Ting Yun in composition con Hook la può rendere estremamente variabile ed estremamente interessante. Quindi Hook mi duole effettivamente dirlo, perché mi duole dire una roba del genere. Secondo me, come danni AoE, soprattutto di elemento fuoco, perché ricordiamoci anche gli elementi sono importanti, sono molto interessanti. Ho trovato invece un pochettino sotto tono Asta, molti me ne hanno parlato bene, perché Asta aumenta la velocità, aumenta anche l'attacco del team, e sono tutte cose assolutamente positive e valide, però purtroppo la sua skill un pochettino mi ha fatto cambiare opinione, mi ha fatto cambiare idea, perché per quanto riguarda i danni probabilmente preferirei una Hook, assolutamente. Ci sarebbe anche una Imeko, che in realtà, per quanto riguarda il fuoco, è molto valida. Non capisco perché Imeko sia considerata la più scarsa dei 5 stelle presenti all'interno del pacchetto iniziale di gioco. È vero che comunque il suo follow-up si attiva ogni 3 break e quindi effettivamente risulta essere un po' meno efficace in alcune situazioni. Però comunque la sua skill è molto valida e la sua ulti è forte, è molto forte la sua ulti, quindi non capisco effettivamente questo astio, tra virgolette, nei confronti di Imeko. Probabilmente, ripeto, andando avanti nel gioco si avrà la possibilità di scontrarsi ovviamente con nemici un po' più particolari che giustamente non permettono di sfruttare appieno il potenziale di alcuni personaggi e quindi questo video potrebbe effettivamente cambiare da una settimana all'altra. È assolutamente plausibile una cosa del genere. Però, secondo me, Imeko, nonostante tutto, ha comunque un buon kit. Soprattutto se in futuro, magari, all'interno del gioco, ci sarà qualcuno che darà la possibilità di poter breccare a prescindere. Anche se ho visto che c'è un set all'interno del gioco che ho già droppato che permette di aumentare il potere e l'efficacia di break. Quindi, dare questo set a Imeko potrebbe effettivamente renderla praticamente un personaggio che instabrecca i propri avversari e così facendo potrebbe fare follow up praticamente all'infinito che la renderebbe secondo me molto, molto, molto viabile. Però, ripeto, potrei cambiare idea dall'oggi al domani man mano che vado avanti e vedo come vengono diciamo impostate le battaglie e soprattutto come vengono impostate anche le diciamo gli eventi e le difficoltà più avanzate del gioco. Però, per quanto riguarda la base, per quanto riguarda l'inizio del gioco del gameplay questi, secondo me, possono essere dei consigli molto utili a coloro che effettivamente non sanno che pesci pigliare. Perché capisco che comunque essendoci tanti personaggi non si riesca a capire cosa fare e cosa non fare mentre io invece avendo potuto rerollare tante e tante volte e avendo provato praticamente quasi tutti i personaggi vi sto dando una mia idea generale. Spendo due paroline anche su Wealth in realtà perché è l'unico del suo genere al momento è l'unico che fa danni illusori ed è l'unico anche che può paralizzare o comunque intrappolare i nemici. Meccanica che sembra stupida ma in realtà non lo è. Devo ammettere che io inizialmente avevo sottovalutato questo tipo di personaggio però avendolo provato un pochettino in giro devo dire che ne sono rimasto abbastanza soddisfatto. Secondo me però non è uno di quelli top con cui cominciare il gioco. Vi ripeto secondo me quelli top veramente top con cui cominciare il gioco sono Bailu Bronia e Clara come 5 stelle. Per me i 5 stelle che vale la pena iniziare sono questi. C'è chi potrebbe dirmi eh ma Sila è fortissima fa tutto quello che è? Sì ma Sila si può trovare nel suo banner dato che è il primo personaggio che per l'appunto è uscito all'interno del gioco. Mentre invece se volete pullare nel banner iniziale quindi quello con le multiscontate e il banner diciamo quello generico quindi quello standard quello di base i personaggi secondo me da cercare sono loro 3. Se poi volete affiancare un DPS Sila va benissimo Sila è fortissima sono d'accordo però per me almeno per come ho visto io il gioco e per come sto giocando e per come mi piace soprattutto giocare io direi che un setup probabilmente ideale potrebbe essere Bronia Clara Tingyun e o una Bailu oppure poi ci sostituite qualcuno quindi per me queste 3 rappresenterebbero il setup perfetto per iniziare il gioco e per avere comunque anche una buona viabilità di danni e una buona viabilità anche di difesa secondo me poi a queste ripeto ovviamente potete affiancare una Bailu anche se in realtà avendo lo stesso elemento con Tingyun potrebbe andare un po' a cozzare la situazione quindi probabilmente al posto di Bailu potrei dirvi di mettere non saprei una Sila se volete comunque qualche danno in più ci può stare se siete fortunati e avete la possibilità di prendere Sila va benissimo altrimenti utilizzate ovviamente il protagonista fisico fino a quando lo potete utilizzare e andate avanti per il resto in realtà non ho nient'altro da dire perché gli altri personaggi non mi hanno fatto impazzire le ho provati ma non mi hanno fatto impazzire sto aspettando lui perché esteticamente è fighissimo Jing Wang Jing Yuan anzi perché esteticamente è fighissimo però io ragazzi purtroppo avendo cominciato il gioco con Bailu e Tingyun avere un altro personaggio elettrico non so fino a che punto mi convenga averlo adesso averlo subito quindi devo decidere devo decidere che cosa fare sto tentando al momento di trovare Sila man mano che posso pullare cerco di pullare e vedo se riesco a trovare Sila perché lei effettivamente potrebbe farmi comodo con il setup che ho a disposizione anche se in realtà quella che sto sperando di trovare io è Bronia o Clara cioè in generale io vorrei effettivamente una delle due vorrei assolutamente una delle due speriamo di riuscirci magari farò anche qualche altro tentativo di reroll perché io sto andando comunque avanti nel gioco perché non voglio rimanere indietro perché rimanere indietro sarebbe un po' un po' brutto dopo che giustamente il gioco è uscito tutti vanno avanti io invece ancora sono lì a rerollare e non capire come funziona bene il gioco anche perché mi ci voglio dedicare e voglio fare appunto dei video dedicati però il mio debutto diciamo su Honkai è questo ovvero darvi un consiglio su quello che ho potuto vedere nelle prime ore di gioco i personaggi che ho potuto provare nelle prime fasi di gioco e le mie sensazioni a caldo magari cambierò idea magari cambierò anche in generale cambierò sì idea fondamentalmente su alcuni personaggi ma per il momento mi sento abbastanza sicuro di quello che sto dicendo detto ciò fatemi sapere voi invece quali personaggi avete chi avete cercato chi vorreste nel vostro team qual è la vostra composition cosa ne pensate del gioco fatemi sapere un pochettino voglio effettivamente esplorare la community e il mondo di Star Rail sperando che non mi deluda come quello di Genshin e quindi per il momento direi che è tutto io vi ringrazio per l'attenzione spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima bye bye